A un programma come l'Isola dei Famosi è più facile senz'altro che succeda quel che è successo infatti, ovvero un naufrago si è sentito male in diretta all'isola. Ci sono stati attimi di panico durante l'ottava puntata del programma condotto da Hilary Blasi, esattamente quella del 5 di giugno, ed è successo tutto durante una prova di forza. Per l'esattezza a sfidarsi senza esclusione di colpi è stata Cristina Scuccia e Alessandra Drusian. In pratica le due si sono sfidate in una prova abbastanza complessa per tenere l'accesso al televoto flash riguardo il primo finalista. Come si sa, ad avere la meglio durante il primo incontro è stata Pamela Camassa ed è lei ad aver vinto Prestes nella prova di apnea. Si è trattata però di una cosa che ha fatto molto discutere. Dallo studio dell'Isola è intervenuto Enrico Papi, che ha tentato di far passare la prova come non valida. Più tardi Alvin e Hilary Blasi hanno invece messo mano al regolamento e hanno decretato che era tutto ok. Poco dopo si è andati avanti con le sfide e si è passati alla second manche. Qui appunto si sono sfidate Alessandra degli Alice e Cristina Scuccia. C'è da dire che quasi immediatamente si è vista la superiorità in questa prova dell'ex concorrente di The Voice. Alessandra d'altro canto è stata in difficoltà sin dai primi istanti. Anche il marito Fabio Ricci si è immediatamente reso conto che c'era qualcosa che non andasse. Poco dopo Alvin ha provato a calmare l'uomo e facendo continuare Alessandra nel gioco. Un momento che di fatto ha ricordato l'episodio sgradevole dello svenimento di Corin Clary. Ed è a questo punto che Alessandra Drusian si sente male e avverte un grave attacco di panico. Il pubblico si è accorto che qualcosa non andasse quando in scena si poteva vedere soltanto l'ex suora partecipare al gioco, mentre la cantante degli Alice era scomparsa. Hilary Blasi allora ha chiesto ad Alvin cosa stesse succedendo, ma niente da aggiungere. Un istante dopo la telecamera ha ripreso Alessandra in crisi con il suo brutto attacco di panico. La Alice si è quindi lasciata andare ad un urlo isterico. A questo punto Alvin l'ha presa sulle spalle e l'ha riportata sulla spiaggia. È andata in ansia perché non toccava. Adesso la stiamo calmando. Appena è pronta te lo dico. Chiaramente tutti se la sono presa con Cristina che ha continuato a giocare nonostante la collega sembrava stesse per morire da un momento all'altro. Cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione. Mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max. Ciao, un saluto.